campagna non cambia colore però arriva direttamente l'esercito allora guardi la campania è chiaramente via la valutazione di dati che provengono dalla campagna facciamo un attimo chiarezza sui dati che poi si è detto che i dati non sono fedeli che vi è dolo allora chiariamo ogni diciamo ogni cosa io non credo assolutamente che vi sia dolo nel prendere i dati nel trasmetterli voglio sperare almeno che non sia così ma francamente ne dubito in una situazione come questo credo invece che vi sia magari una minore accuratezza nella raccolta dei dati non per dolo ma per pressione dei servizi lei immagini che se in una regione non faccio l'esempio della campagna parlo di qualunque regione tutti trovi 5.000 contagi in un giorno e di questi 5.000 contagi devi andare a cercare anche tutti i contatti stretti devi fare i tamponi devi aspettare l'esito dei tamponi e quant'altro capisce che la raccolta di quei dati purtroppo per numerosità del campione diventa meno accurata così come diventa praticamente non accurata se tu hai i sintomi la immagine dottor sideri c'ha i sintomi deve chiamare per fare un tampone il tampone glielo fanno fra cinque giorni poi dopo altri cinque giorni arriva la risposta nel mentre tutti i contatti stretti del dottore sideri poi vengono rintracciati è positivo non è positivo poi magari rintracci una settimana dopo ma una settimana dopo è già troppo tardi allora capisce che quel sistema di positivo contatti stretti eventuali altri positivi salta completamente ed infatti in alcune regioni in alcune aree si è visto un aumento del numero dei contagi non legati ad altri focolai cioè quei contagi di quali non riesci a capire come è stato il meccanismo di trasmissione capisce che questo diventa un rischio ecco perché regioni dove questa accuratezza legata anche ad andamento importante del virus alle carenze strutturali del territorio tutto un insieme di fattori è chiaro che sono delle regioni che vanno attenzionate se i dati improvvisamente non dovessero essere così accurati ripeto non per dolo ma per diciamo impossibilità o incapacità o del sistema o impossibilità perché i numeri sono davvero alti è chiaro che lì salta un campanello d'allarme si accende un campanello d'allarme per il quale forse è meglio un passo indietro e magari un lockdown circoscritto delle misure più restrittive è chiaro che laddove poi vi è una sofferenza precedente bisogno delle regioni che sono erano in piano di rientro che sono in piano di rientro delle regioni qualità gli sono stati più duri perché hanno dovuto recuperare strada e molto hanno dovuto recuperare proprio il periodo covid è chiaro che può essere necessario un supporto e per i controlli e lei ha fatto l'esempio dei militari ovviamente anche per la parte sanitaria cioè supportare quelle regioni che in questo momento hanno più bisogno devanzone sì prego vedo che voleva fare una domanda